a porco di erano commesso ciao ragazzi fregno di merda oggi apriamo un pacco di sogna biciù perché faccio così vabbè vediamo cosa mi sono presa vi faccio vedere vediamo vediamo intanto abbiamo allora pacco acqua per terra parliamo ecco qui ecco qui che bello la borsa vuota e vabbè una busta vuota a porco di la madonna di cristo ho fatto così mi sono tagliati i capelli no allora andiamo in siamo bene allora qua ci stanno sicuramente le collane ragazzi ho cinque ore di sonno quando io ne dormo 11 12 perché stamattina alle belle ottennezza mi svia che qua di fronte vabbè poi non me ne frega niente ma io ve lo dico boom 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 guardate che a porco di era madonna guardate che bello e voilà poi c'ho pure l'abbigliamento giusto però mettiamolo a pari io veramente volevo il cuore però mi sono sbagliata e mi hanno dato la croce volevo il cuore perché il cuore mi piaceva di più però va bene lo stesso a porco di è la madonna di merda un cuore quando è fredda allora poi questa è stupenda questa me la tengo perché mi piace troppo a porco di è la madonna di merda guardate che carina sento freddo perché stamattina fa freddo ragazzi è una croce croce di vacca no è una croce di alluminio no alluminio vabbè quel materiale che non si rovina scusatemi ma tu dici ma che li fa tappa lo vedi perché mi piace guardate che bella questa è una croce di quel materiale che non fa ci fa insomma non ci fa ecco ma sonia che mi hai mandato tante buste ah ma forse per dividere le cose allora ragazzi questo è un pantalone no bello di più fatto un po palloncino poi me lo misuro ma è stupendo guardate che glicine e io lo spolverino glicine uguale speriamo che mi sta bene ma anche sì guardate è un po' corto e io poi lo accorcio ancora di più perché a me piacciono perché sotto è un po' così e io faccio un po' così allora vi piace come spiego le cose ma alla sanfason guardate il sottotuta che mi sono presa che mi serviva bellissimo con gli elastici ma il tessuto ragazzi quello che volevo dire ieri sono andata a un negozio a porco di e la madonna di merda trick e track e bomba a mano noccioline caramelle ieri sono andata a un negozio ragazzi e costavano poco ma i tessuti non erano così non è che vuoi fare pubblicità perché veramente sono soddisfatta perché si vede eccolo qua si vede tutta la soddisfazione allora questa mi sarebbe piaciuta se ci avesse l'elastico però non fa nulla ma guardate il pezzo forte qual è questa è bellissima ma il pezzo forte è porco dire madonna di merda e questo ragazzi è la camicia guardate che sciccheria scicchezza la possiamo anche chiamare più lunga più lunga cioè praticamente ma posso mettere solo qua anche solo questo come vestitino perché dietro è più lungo cioè ragazzi io mi compro pochi capi ma fatti come ah eccola quella che aspettavo fatti come si deve c'è pochi capi no però guardate l'occhio di pure oddio mi ha cascato con la collana qua me la devo mettere bene ma la sono messa bene guardate questa che sonia ci faceva tata 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 bellissima ragazzi guardate quel vestito meraviglioso meraviglioso freschissimo per l'estate Guardate quest'occhio quanto è bello È bello per essere bello Io i vestiti di Sonia ce li ho tutti Ma il pezzo più forte ancora C'è tutto forte Guardate che camicia di piquet Piquet è la camicia di piquet Guardate che bella manica Guardate quanto è carina È corta avanti È lunga dietro È stupenda ragazzi Voi mi dicete perché? Perché la camicia è di piquet Allora e poi ci stanno queste due babette Che io amo Spero che mi stanno bene Perché io con i piedi sono un po' disadattata Vediamo un po' Ah Ecco qua Perché a me quelli con il tacco adesso Perché faccio queste forme? Col tacco così E così mi scivolano Invece guardate queste Ragazze Cioè come fa? Ah! Mo' mi casco Come faccio a far vedere le scarpe? Mi siedo E faccio vedere le scarpe Vabbè Perché devo farle vedere così? Le faccio vedere così Ragazzi sono Una confusione totale Guardate che bello Sono comodissime Grazie Sonia Che sei sempre all'avanguardia Che sei sempre all'avanguardia Trenta 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 Non lo so Però Voilà Le j'ai son faire S'il vous plaît Ecco qua Con questi acquisti Io vi saluto Bacioni a tutti Bacioni a Sonia E tutto lo staff Che è Veramente Al bacio Bacioni a Sonia